Aveva messo a segno una lunga serie di furti sulle auto in sosta, seminando il terrore tra gli automobilisti prima di Arezzo e poi della Valtiberina. Adesso è stato identificato dai carabinieri e per il ladro seriale sono scattate le manette. Si tratta di un 51enne residente ad Arezzo pluripregiudicato che d'agosto ad ottobre aveva dato avvio ad una serie di furti prima lungo le strade del capoluogo e poi si era spostato in Valtiberina. I militari di Monterchi assieme ai colleghi di Sansepolcro erano riusciti a risalire all'identità del ladro. Adesso il Tribunale di Arezzo ha messo la misura cautelare della custodia in carcere. L'uomo adesso si trova presso la casa circondariale di San Benedetto dove dovrà rimanere per il reato di furto aggravato. Sempre in Valtiberina un imprenditore di 47 anni è stato invece denunciato dai carabinieri della stazione di Anghiari per invasione di terreni e edifici. A conclusione delle indagini partite dalla denuncia di un 57enne san giustinese proprietario di un frantoglio di Anghiari, i militari hanno accertato che l'uomo accedeva arbitrariamente all'interno della struttura e utilizzava macchinari per spremere le olive senza il permesso del proprietario, tornando poi a casa con il suo carico di olio nuovo.